Lui dice sì è vero, appunto ha rimarcato il fatto che comunque non ha solo origini italiane ma appunto origini... E comunque è molto importante anche che i suoi figli sappiano, senza trascurare il fatto che comunque sono americani, è importante che i suoi figli sappiano che comunque provengono dall'Europa perché l'Europa è cultura e insomma è molto importante che loro si ricordino questo.